Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qua con una tripla review. Marets 89 versione Centurioni Foot, Rebic 87 versione Centurioni Foot, e infine King versione Eroi, versione Base. Vi ricordo come al solito che ieri è uscita la review, la preview del Team 1 dei Centurioni, quindi fatemi sapere insomma quali altri giocatori volete che io analizzi sulla piattaforma viola e che poi usciranno altre review. Lasciate tantissimi like per questo nuovo video e poi non dimenticatevi che se volete vincere 300.000 FIFA Points o una PS5 dovete partecipare subito al giveaway di OneFootball perché mancano pochissimi giorni alla fine. Non dovete fare altro che cliccare sul link in descrizione sul form e partecipare al giveaway completando tutte le richieste del form. Quindi prima scarcate l'applicazione di OneFootball dal link all'interno del form, poi cliccate sul titolo e inserite il titolo del primo articolo che vedete all'interno dell'app, nome, cognome, indirizzo email, la console che giocate ha accettato i termini e lo inviate e poi aspettate per vedere se vincete. Mi raccomando mancano veramente pochi giorni. Ma adesso partiamo ad analizzare il primo. Partiamo da off game, cosa ci possiamo aspettare da Marez? Alto normale rendimento giocatore, quindi sicuramente una carta che tenderà a rendere tanto in fase offensiva e poco in fase difensiva. Emancino con 4 ipi e debole, quindi il destro potrebbe non essere impeccabile. Il 5 di massabilità ovviamente è una delle sue qualità perché è un dribbler veramente di livello. Oltre che come ruole alternative abbiamo esterno destro, COC e ala destra, quindi abbiamo diversi ruoli per poterlo linkare. Premier, Manchester City sono degli ottimi link tra ovviamente Walker o generalmente la Premier, però Algeria abbiamo solamente Ben Nasser e poco altro. A livello di intesa del giocatore abbiamo 91 accelerazione, 80... A livello statistico abbiamo un giocatore che possiamo vedere che sicuramente ci dobbiamo aspettare che sarà rapido nei primi passi avendo molta accelerazione ma non tanta velocità scatto. Possiamo aspettarci un giocatore che è in grado di finalizzare qualche situazione ma che non sarà preciso in tutte o che comunque tiri troppo forte, sicuramente tira forte ma non troppo, tira bene dalla distanza. Dovrebbe avere un gran bel tiro a giro e anche un buon tiro di esterno visti trait. Dovrebbe essere in grado di posizionarsi e inserirsi, essere un ottimo regista soprattutto in termini di passaggi corti, qualcosina anche in passaggi lunghi avendo un'ottima visione. A livello di dribbling abbiamo un giocatore che dovrebbe essere eccezionale perché qua abbiamo una statistica sotto il 92 in termini di statistica di dribbling e poi a reattività e freddezza abbiamo 87, quindi dovrebbe essere agilissimo e con le 5 stelle skill essere davvero interessante. fisicamente è pressoché inutile, è una buona resistenza, secondo me gira bene come COC o come D anche a sinistra. In game ragazzi questa carta mi ha stupito tanto, allora in termini di velocità corre veramente molto di più di quanto mi sarei aspettato, sicuramente la sua qualità è soprattutto nei primi metri dove ovviamente eccelle perché prende molto spazio, molti metri dagli avversari però poi sul lungo ovviamente non è uno sprinter, non è quel genere di giocatore lì. Su vecchia generazione corre un po' di più, su nuova un filo di meno però comunque con l'esplosivo sui primi metri prende più rapidità, diciamo che sono due tipi diversi, corsa su vecchia generazione corre di più sul lungo, invece su nuova corre di più sul corto. A livello di tiro in entrambi i casi sia su vecchia che su nuova generazione è un giocatore che finalizza tanto sia di mancino ma a me è piaciuto anche di destro, quindi personalmente l'ho trovato molto affidabile soprattutto di mancino, soprattutto con i tiri a giro ma anche con i tiri di esterno e generalmente quando deve tirare in area o fuori area di rigore comunque l'ho visto finalizzare quasi sempre, quasi ogni singola situazione. Nei passaggi pure è un fenomeno, quando lancia è difficile che sbagli, è molto bravo sia nei filtranti alti che nei filtranti semplici, che nei passaggi tesi, nei passaggi a smarcarsi e cercare passaggi più complicati dove neanche vede bene dove sono i compagni, quindi nel complesso dal punto di vista dei passaggi mi è piaciuto molto, così come nel dribbling ha la sua qualità più grande, ha un'agilità pazzesca, si gira in un fazzoletto e ha un dribbling che è nettamente superiore secondo me a quello di Di Maria, visto che è stato molto paragonato, è molto più agile e soprattutto le skill le fa in uno spazio secondo me ampio, ma riesce a tenere il pallone più attaccato al piede e più vicino al corpo, quindi nel complesso l'ho trovato davvero difficile da marcare, se sapete skillare per i skiller questo è un giocatore pazzesco. Come stile intesa lo consiglio con cacciatore sia su vecchia che su nuova generazione, perché comunque gli dà velocità e gli dà tiro ed è quello di cui ha più bisogno. Come ruoli lo utilizzerei o come C.O.C. o come alla destra, così potete cercare il mancino per il tiro a giro, ma ipoteticamente può giocare anche a sinistra se vi piace incrociare, però comunque lo vedo bene come il C.O.C. e l'ho utilizzato anche come punta in un attacco a due affiancato a una punta un po' più grossa, li fa un po' più di fatica, però l'ho trovato utilizzabile, ma il suo ruolo è il C.O.C. Ovviamente il costo non è per tutti, i 281 miglacrediti non sono pochi ma non sono neanche tantissimi, come dicevamo i link che può avere per l'Algeria sono pochi, perché comunque abbiamo giusto Benazerdi interessante e veramente poco altro, quindi se avete fatto questo Benazer sicuramente ho un link interessante, se no molto semplicemente sfruttate il Manchester City e qua ne abbiamo già un bel po' di più, tra Holland, Ederson, Cancelo, Walker, comunque abbiamo diversi link, Phillips e da questo punto di vista ce la caviamo. Personalmente mi piace davvero tantissimo, lo trovo anche quasi, non è competitivo, perché comunque gli manca un po' di fisicità e non corre così tanto da riuscire a essere perfetto, però comunque nel complesso secondo me questa carta è veramente forte, io gli darei un 7,5-8, quindi personalmente lo consiglio tanto, poi ovviamente se volete aspettare lo capisco perché tra poco ci sono i toti, quindi fate attenzione se questo giocatore ha senso nella vostra rosa e se ne vale appena sprecare i fodder. Secondo giocatore che oggi andiamo a vedere è Rebic, Rebic of Game è sicuramente un alto normale che vuol dire che anche lui in fase offensiva ovviamente molto presente, in fase offensiva un po' meno, ha come ruolo attaccante esterno sinistro alla sinistra, è un 4-4 quindi non schilla, piede preferito il destro, dal punto di vista della velocità sicuramente possiamo aspettarci un giocatore che corre tanto, possiamo aspettarci un giocatore che finalizza quasi ogni situazione, che è bravo a posizionarsi e inserirsi in fase offensiva, che tira delle secche allucinanti, che sia abbastanza scarso nei passaggi, a livello di dribbling, sape gestire un pallone, dribblare, ma con un po' di pesantezza visto l'agilità, l'equilibrio e il body tag, poi molto forte fisicamente. Ok Rebic è proprio quel tipo di giocatore che su nuova generazione è un giocatore, su vecchi è un altro, partiamo da nuova generazione dove va utilizzato con architetto perché è un legt, di conseguenza su nuova generazione ci aspettiamo un giocatore, potete aspettarvi un giocatore che corre veramente un botto sul lungo, è davvero un trattore, sui primi metri è pesantissimo, veramente a volte nei primi metri ci mette 6 anni a iniziare a correre, ma se lo prendete già in corsa perché magari col terzino cliccate L1 e lo fate correre, sui lanci questo qua corre un botto e tira sotto chiunque perché poi fisicamente è una bestia ed è veramente difficile da spostare. In termini finalizzativi di tiro tira delle secche allucinanti su nuova generazione e da questo punto di vista è davvero interessante perché poi quando entra in area se lo usate in fascia tira a incrociare segna sempre. A livello di dribbling non si muove manco a pagare e di conseguenza dovete stare attenti da questo punto di vista. Ora facciamo subito una parentesi per vecchia generazione perché su vecchia generazione corre invece bene ma in maniera diversa, non è tanto sul lungo quanto lo è su nuova generazione perché Cialenti corre già dall'inizio, cioè corre tutto il tempo come vi potete aspettare da un giocatore con quelle statistiche. Poi a livello di dribbling si muove molto molto meglio, l'ho utilizzato con motore però per sistemare l'agilità e l'equilibrio e da quel punto di vista secondo me su vecchia generazione è davvero molto più valido come punta perché si riesce a muovere davvero molto molto meglio, è molto più agile, c'ha un buon dribbling sinceramente. Al contrario di nuova generazione dove non si muove manco a pagare, cioè con lui riuscivo solo a correre dritto e abbattere gli avversari fisicamente. Come vi dicevo su nuova generazione va utilizzato con architetto perché così acquisisce Cialenti migliorando forza fisica per la differenza con l'agilità, mentre su vecchia generazione dovete usarlo, io l'ho usato con motore personalmente, che gli migliora l'accelerazione a velocità praticamente a 99, gli migliora di non so quanto, tipo 8, 9, 10 l'equilibrio, un po' l'agilità e un po' di statistiche di passaggio dribbling, quindi diventa più agile, si muove meglio. E nel complesso direi che su nuova generazione lo consiglio davvero poco, lo consiglio solamente per quelli che amano i giocatori che corrono dritti, che li mettete in fascia e lo fate correre dritto perché come punta io non lo apprezzo per niente. Su vecchia generazione invece mi è piaciuto moltissimo come attaccante dove non fa la fatica che fa su nuova, qua si gira molto più rapidamente, riesce a saltare l'uomo, riesce anche a schillare, riesce a stoppare un pallone a girarsi, cosa che su nuova dovevo pregare una santità, quindi da questo punto di vista lo consiglio su nuova generazione come esterno, per chi piace quel tipo di giocatore lì, su vecchia generazione lo consiglio in generale come attaccante di una serie A perché secondo me è veramente molto valido. Ultimo, ma non ultimo per importanza, abbiamo King che off-game possiamo sicuramente aspettarci un simile Campbell, tranne che è più lento di Campbell, quindi possiamo aspettarci un giocatore grosso, fisicamente abbastanza forte perché in questa versione qua non lo è così tanto, poco resistente, poca aggressività, quindi possiamo aspettarci che non sia ultra-automatico sulle intercettazioni perché magari tenderà poco a cercare di andare a intercettare la palla. Difensivamente molto forte, comunque tendenzialmente automatico negli interventi contrasti, nel leggere le situazioni e essere sempre al posto giusto, dovrebbe correre abbastanza ma non accelerare molto, su vecchia generazione questo dovrebbe essere una pippa perché si sentirà tutta la pesantezza, su nuova generazione invece dovrebbe essere fortino perché con l'engt potrebbe essere molto interessante utilizzato con ombra. Molti poi mi chiedono come sbloccarlo, al momento semplicemente non è possibile nel senso che sul mercato ancora non c'è per qualche ragione, lo si può trovare in teoria nei pacchetti però al momento non l'ha ancora trovato nessuno, l'unico modo che avete per utilizzarlo è andare nei momenti, nel catalogo e sbloccare la versione in prestito, come vi ho fatto vedere nel video di ieri che se non avete visto recuperatelo. Partiamo dal presupposto che King l'ho provato solo su nuova generazione perché purtroppo avevo solo le partite in prestito e l'ho voluto provare su nuova generazione per capirlo con attenzione. Dal punto di vista di velocità è un giocatore che comunque corre, onestamente ha una buona corsa soprattutto sul lungo, nei primi passi fatica un po', però comunque sul lungo grazie al lenti riesce a recuperare quasi tutti, difensivamente è una carta molto valida, all'inizio non mi ha fatto impazzire il fatto che spesso l'ho visto a cazzeggiare nei posizionamenti mentre mi aspettavo a essere un posizionamento perfetto, al contrario molte volte lo vedo veramente fuori posizione però poi quando si tratta di intercettare palloni con trasti o anche solo magari uno tira e deve mettere il piede in mezzo lui è veramente molto automatico nell'intenzione di andare a cercare di togliere il pallone o di cercare di togliere l'avversario, non sempre super aggressivo però nel complesso comunque ha la tendenza difensiva automatica, poi comunque è molto preciso negli interventi e a livello fisico riesce a spostare più o meno chiunque, non è forte quanto mi aspettasse, ovviamente l'86 di forza fisica ce lo poteva far aspettare però considerando il body type me lo aspettavo un pochino più forte e comunque nel complesso è forte, diciamo che l'associazione a Campbell era un po' forte e Campbell è più forte. Sicuramente è molto utile il fatto che ci abbia il doppio link alla Premier essendo un hero della Premier, sperando che escano altre versioni di questo King per me può diventare davvero una carta molto forte ma in questa prima versione base se fosse uscita a settembre sarebbe stata molto utile ma a questo punto del gioco secondo me ci sono decisamente carte superiori preso il considerato che ormai Van Dijk costa 75.000 crediti ed è secondo me decisamente superiore a King in termini di automatismi, in termini fisici ma anche in termini di movenze di corsa. Sicuramente essendo che King può essere un lengthy, lo utilizzerei con ombra e lo utilizzerei ovviamente solamente difensore centrale, non è malvagio, bisogna vedere quanto costerà quando uscirà la carta, intanto consiglio a tutti di sbloccarvi in momenti, nella sezione momenti, nel catalogo questa carta in prestito per 7 partite e di provarlo almeno per 6 partite in modo che avete la possibilità insomma di vedere se vi piace a voi fisicamente senza dovervi basare solamente sulla mia esperienza, di conseguenza lo provate, valutate e poi quando uscirà in base al prezzo che avrà farete le vostre scelte, però personalmente Van Dijk lo trovo superiore. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate, partecipate a Gioe di OneFootball di cui trovate il link nella prima riga, noi ci vediamo nel prossimo video, bello a tutti!